Salve a tutti, sono il Gamer e bentornati su Darksider 3 Allora, nello scorso episodio abbiamo fatto la conoscenza di un altro dei 7 peccati capitali Che era la signorina Superbia Ma do il fastidio che mi è salito quando l'abbiamo incontrata Quest'oggi riprendiamo da dove avevamo lasciato Vi ricordate c'erano gli angeli che stavano litigando da quella parte? Io sono andato avanti per conto mio un'oretta, anzi indietro per l'esattezza E ho esplorato un attimino le zone Allora, stavano litigando con delle creature demoniache Buon salve! Potrebbero attaccare anche noi in effetti, eh Salve, buongiorno, scusate Gradite un leggerissimo uragano Scusate, avevano previsto un po' di maltempo Ok, perfetto Legnali tutti, legnali tutti Veloce, veloce, veloce Non fatti attaccare, non dagli tempo di attaccare No, l'ha detto rompiscato Non vedo, eh sì, ma non vedo niente, gioco Ok, uno l'abbiamo fatto fuori, signore E lei pure Olè Dove sono gli angeli? Angeli? Ma che cattivi, sono andati via Ma sento c'è, gli ho anche dato una mano Oh mio Dio, questa zona paludosa è messa anche male Ah, quest'acqua non mi ispira a fiducia Giudicare dalla quantità di cadaveri all'interno Mi sa che non dovrei proprio proprio metterci i missanti piedini Salve, signore, mi perdoni E avrei bisogno di lei Sa com'è? Devo tipo raggiungere la zona sopraelevata là Non mi scappi via Ma non, perché devi andare a sbattermi sulle pareti? Ok, l'ho colpito anche troppe volte Poretto, no davvero Siamo delle persone orribili, furia Ok, ci sei quasi Perfetto, grazie signore Allora, aspetta che gli do salire sopra E non posso farlo Se sono in acqua Ok, e... Ok, grazie, arrivederci Allora, vediamo cos'altro ci manderanno contro le forze demoniche Che sono letteralmente dovunque Ui, cos'è? Cosa è stato? Mi son caccato in mano Mi sono... Ui là, caccato in mano Maledetto, questo è nuovo Cos'è sta creatura? Ui, ui E fa anche male Oh, occhio Dobbiamo soprattutto schivare i suoi cavoli di attacchi dall'alto Che sono quelli che fanno più danni Ui, certo Perfetto Vedi, furia Che se impariamo a schivare Forse, forse Riusciamo ad arrivare Vivi alla fine di sta boia di avventura Allora Dietro la cascata C'è sicuramente qualcosa Ui là Un angelo morto malissimo Strano A quanto pare Questo probabilmente è uno dei territori contesi Fra paradiso ed inferno Allora Dobbiamo andare in quella direzione Oh no C'è quello che mi dà fastidio Salve signore Come sta? Ui E certo Guarda, finché è da solo Reconcorra A farlo fuori Quando poi gli arriva il cugino Ecco, la situazione si complica un attimino Buono Mi ha ricricato anche il coso dei Nephilim Beh, posso arrivare Chi è? Trovo un modo per arrivare da lei Si fidi? Ciao angelo Uai, uai Che c'entro io? Che c'entro io? Boni Porca di quella porca Ho dovuto dare una mano Non mi attaccano anche gli angeli, vero? Beh, scusi No, non volevo Wow, wow, wow Mi attaccano tutti Mi attaccano tutti Ma mi prendi in giro Ci sono tutti che stanno litigando attorno a me Ui, ho visto un angelo Ui, ui, ui Tizio Ma stai buono Ma volemo sebbene Avanti O qui non c'è proprio Sono tutti contro tutti qua È fotte sega Ok, almeno ottengo un po' di schegge Ma non sono le schegge che mi servivano Adesso abbiamo bisogno di frammenti più grandi Per riuscire a potenziare le nostre armi Ole Ammasso di spettri Mio Allora, dobbiamo trovare un modo per arrivare lassù E c'ho una mezza idea Al signore laggiù la mia mezza idea Piacerà un po' di meno Allora Ho visto che se saliamo sopra In teoria Se usiamo la forma di fuoco Posso fare tipo così E magari lui mi va esattamente in quella No, no In quell'altra direzione signore Porti pazienza Ok, anche troppo buono Perfetto E olè Oh mio dio Dimmi che almeno questa è la direzione corretta Aspetta un secondo che Ho paura di incontrare genti cattive che mi assalgano Tipo lei Buon salve Porti pazienza che c'ho la telecamera Ui, 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 ui Buono Quello l'ho tipo one shotato Santo cielo Tizio La smetti E con Oh mi attacchi Oh porco cane C'è un costizio dietro Ok, fatto fuori Salve troppe genti Scusi che c'è la telecamera del gioco Ogni tanto è un po' una M Porti pazienza anche lei Mi sa che siamo arrivati in direzione corretta Credo che l'umana fosse esattamente laggiù Signorina Signorina buongiorno Sì Ok Salve L'ho trovata Ma no Ma l'aiuto Venga qui Si faccia palpeggiare Cioè no Scusi Palpeggi lei me Ma vabbè dettagli Oh Era un bel po' che non salvavamo un'umana in effetti Frammento di adamantite Ecco Questo è quello che ci serve per le nuove armi Oh Guarda chi c'è L'animaletto che aspetta che io gli dia da mangiare Ma santo cielo Allora Aspetta che tiro giù ste cavolo di cose intanto Perfetto Lui se le va a pappare E possiamo buttare giù questa Scusi signore Venghi qua Porti pazienza Aspetta E Olè Perfetto E grazie Ora dovremmo che abbiamo aperto tutto Oh Signore Devo di nuovo colpirla e portarla fin là in fondo Mi dispiace Sì ma scusate Non potevamo tirarlo per un tentacolo Che mi pare la tattica migliore Senza turcidare la povera bestiola così che sta soffrendo Probabilmente dobbiamo utilizzarlo in modo tale da poter poi planare dall'altra parte Ho fatto signore Scusi Ok e ora possiamo tranquillamente arrivare di qua Spade angeliche Tante spade angeliche Tanti cadaveri angelici Sembra che veramente che i demoni stiano vincendo No nemmeno io per niente Una volta dentro Entriamo? E beh ovvio sono scema io eh Salve scusate Sono arrivata su una bella topolona Buongiorno Quindi questo è il covo degli angeli Siamo sicuri Sì siamo sicuri Oh no Cento euro che sto per affrontare gli angeli Guardali Mi stanno per attaccare tutti vero? Ah salve No decisamente no Non dovrebbero esserlo Schiere del paradiso Sapete chi sono? Oh oh appunto No Avete intenzione di vedere tramontare il sole Senti come brucia la lama del paradiso Olè perfetto Già che ci attaccano Cominciamo alla grande Ciccio io però non volevo litigare Colpa tua Ricordatelo Ok non sono troppo resistenti Telecamera perché? Quindi dobbiamo trucidare tutti gli angeli Yeeey Sicuramente non andrò all'inferno Vabbè aspetta io non posso tecnicamente andare all'inferno Giusto Usami la cura Perfetto perché ci stanno dando parecchi frammenti del Nephilim Questa è un pochettino più resistente degli altri E meno scemo in effetti Dicevo come avete visto I Nephilim sono odiati da tutti Oh oh questo è più cazzuto degli altri Eeey Proprio perché non appattengono né al paradiso Né all'inferno Oh lega A quanto pare Gli angeli demoni sono un po' razzisti Se non si fosse capito Ok Sto andando di contraattacchi buoni oggi Cosa mi sta accadendo? Sono preoccupato Ah ok 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 come l'ho detto Grazie al gioco che mi hai rimesso al mio posto Curati Curati veloce Curati veloce Scusi facciamo una bella cosa Si goda un pochettino di uragani nel frattempo Aspetta che adesso ho più difficoltà a schivare i suoi attacchi Perché non riesco a vederli bene Ah Che botta di chi urlo No vabbè guarda danni che gli stiamo facendo Oh 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 Aspetta che stai facendo? Eh ma non vale però Non vale Aiuto 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 E ci muoro Allora Devo ricorrere ai trucchi piechi signore Porti pazienza Ma visto che lei tecnicamente è un mini boss Io la massacro senza un minimo di rispetto Morici male Morici male Veloce veloce Che l'attacco non è infinito Ok Ok Eeeh perfetto Ma contento Meglio che niente Aspetta che non ha gradito signore Anzi si è incazzato un attimino Oh Schivato E ci muori Perfetto Oh Salve La tua rabbia è mal riposta Cavaliere Ne dubito fortemente Un cellaccio Ah ma povero Sei qui per finire ciò che tuo fratello guerra È iniziato Non ho idea di cosa guerra abbia o non abbia fatto E non mi interessa Allora Sei qui per rubare le anime dei miei angelici compagni Credi che non riconoscerei un'arma del signore delle capità? Non servo altri se non il consiglio Do la caccia ai sette peccati O almeno a quelli che restano Ma c'è un'altra impellenza che mi riguarda Il tradimento da parte del tuo glorioso regno Ma perché è una campana lui In effetti Eh però per legnare si eh Destruzione È stato ucciso dalle armi angeliche Prima che potessi evocarlo sulla terra Scoprirò perché E lo vendicherò Oh Ecco perché Non amo voi cavalieri Grazie a voi se siamo a un passo dall'apocalisse Ma non c'entriamo nulla Noi Non sono a conoscenza di alcuna cospirazione Contro la tua missione sulla terra Per essere un angelo O si è lei Onorivoli Non dovrebbero esserlo tutti? Significa che non ci siano intrighi in atto Come puoi vedere Ho i miei problemi Forse però Possiamo stringere un accordo Cavaliere Ultimamente le mie forze stanno subendo attacchi E i miei cadono uno ad uno ogni giorno Con orrore Ho scoperto che i miei simili Vengono uccisi da incubi veri e propri Abomini Angeli non morti Questa è nuova Anche i demoni sono sotto attacco E anche essi vengono trasformati in non morti Ah E chi secondo il tuo parere ne sarebbe responsabile? La Pantene È pelato anche lui L'unica forza nell'universo capace di un'azione così efferata È Lussuria Oh no Lussuria? Sei folle Mi sono scontrata con Lussuria più volte Non è così potente E cosa ti fa pensare Che il mondo che hai sempre conosciuto Sia quello in cui viviamo ora Si dice che un demone senza nome Abbia donato a Lussuria Il potere di affrontare le forze di inferno e paradiso Aia Il piccolo anticipo dell'apocalisse Trasforma angeli e demoni In non morti senza distinzione Creature senza volontà Inclini alla violenza e alla distruzione Ma chi è che ci guadagnerebbe da uccidere entrambe le fazioni? Quindi se elimino Lussuria E risolvo il tuo problema Sarai in debito con me? È questo l'accordo che mi proponi? Sì Se mi è concesso Possa questa lama incrociata Servirti nella tua battaglia contro Lussuria Cos'è? Senza controllo il suo potere ci condannerà a tutti Bella la voglio Scopri chi ha cercato di uccidermi In cambio La lista è lunga eh Lussuria rivelarvi la fonte del suo potere Prima di sbarazzarmi Abbiamo un patto Yeeey Che bello Se dovessi scoprire che stai mentendo Ti augurerai che a strapparti il cuore Sia uno dei miei fratelli Perché lei ti strappa altro Non ti strappa il cuore Ciccio Usiel si chiama Usiel Usiel Non mi ero corto Ciccio Premi RS per mirare con salvezza Premi le T per selezionare fino a 4 bersagni Premi le T per selezionare fino a 4 bersagni Ho capito Ok non me lo ricorderò ma mai nella vita Buono signor Usiel Grazie è stato un piacere fare affari con lei Che poi mi domando Scusate Come voi addormite con quelle alacce voi altri? Muoviti Cavaliere Era una domanda legittima Non è che ti devi incacchiare Mamma mia Poi ci credo che vi chiamano uccellacci Ok Peraltro voglio dire Vi fate la base col tetto completamente distrutto Vi si vede lontano un chilometro Ma vabbè dettagli Salve signor Hultane Come va anche lei la vita? Tutto bene? Vole Potevamo potenziare le armi Salvezza è potenziabile? Davvero? Oh con le schiegie di adamantite In effetti si Vabbè tanto noi non le usiamo più Da un bel po' di tempo Perfetto Perché noi usiamo i frammenti Non ne ho neanche tanti Posso potenziare al massimo una sola delle armi Beh tendenzialmente sto usando la lancia del disprezzo Quindi potenzierei quella E se distruggo tutti i miei ammassi di spettri Guarda Guarda Posso permettermi Un altro level appone veloce da fulgrim Alla grande No me ne posso permettere Ben due Ole E ridendo e sterminando Siamo arrivati al livello 33 Allora Butterei su parecchio la forza Perché dobbiamo fare decisamente molti più danni E di uno sputo a sto punto anche la nostra barra della vita Perfetto Buono quindi dovremmo essere arrivati da un'altra parte Ulala Quindi adesso possiamo mirare a vari bersagli direttamente col coso Possiamo anche agganciarli Ok E poi lancio il coso Lui piglierà in automatico Oh Pratico in effetti e torna indietro Ok Quelli devono essere gli angeli non morti quindi Oh no Ci sono tante creature brutte e pericolose Buon salve Scusate Partate Pazienza Questi sono gli schifi che poi ci tirano le spore velenose Ui 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 Buongiorno Buon salve signore Gradisca una legnata Porto cane però loro volano Ecco perché ci hanno dato la nuova arma adesso Ok schivato E ora ti pili tutta la lanciona Vieni qua vieni qua vieni qua Schifoso maledetto Aspetta aspetta che c'è ancora il lancio a spore A tradi Aia A tradimento Vieni qua Schifoso torna su dell'astofagio Uilala Da dove sei arrivato Mi sono cagato in mano sotto cielo Oh no Oh no Aspetta aspetta Ah la pozza mi ha cavato tantissima vita Dannazione Ok lo sapevo Beccati la fiamma Uso il Nephilim Uso il Nephilim Perfetto Così ho potuto curarmi E neanche troppo Notizio Non mi spingere nella pozza verde schifosa Facite nella pozza Porca di quella porca Ok Assessiamogli ancora un paio di attacchi E ci muore Decisamente non mi danno abbastanza anime Per questo boio di creature Scusi The Walking Dead Versione angelica Se vuole attaccarmi Buon salve In effetti Matò è molto più resistente Della versione vivente Diciamo Questa qua non morta È una bestia incredibile Guarda Quasi non li senti I nostri danni Santo cielo Guarda che roba È pieno zeppo di angeli morti Da ste parti Oh no Guarda quanti sono in tre Laggiù Sono in tre Non riuscirò mai ad affrontarli Dobbiamo cercare di attaccarne uno alla volta Perché sennò è finita Allora facciamo una cosa Attacco il signore lì Ok Vieni da me Ti attaccherò da solo Perché Ok Per fortuna sono tanto tanto lenti Però davvero Più che altro il problema È che Fanno di quei danni incredibili Quindi bisogna stare senti A non farti proprio colpire Ma neanche una volta Uilala Vedete la quantità di danni che fanno Oh 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 no Troppi Troppi in una volta Troppi in una volta Via Aspetta che mi curo un attimino Perfetto Ui 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 Cizio Questa sembra la versione un pochettino più leggera Per mia fortuna Ah è quella non completamente morta Ok Allora aspetta che mi prendo anche queste anime Ottimo dimmi che sono tante E sono Uilala Erano 3000 abbondanti Vediamo se ricordo a tirare Il tizio laggiù Vieni Vieni qua Vieni qua Su su Vieni qua Oh oh Sulla strada del ritorno ho preso anche l'altro E ma che sfiga Imane Mi sono caccato Allora facciamo che in due siete un pochettino tanti E quindi mi faccio un attimino aiutare Porca di quella iper porca Ok ok Aia Aia Ok 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 Uno ho fatto fuori No no Uno non ho fatto fuori Aspetta Aspetta Avvicinati Oh il cocane mi ha fatto tantissimo male Ok Oh E il mio turbine ha fatto fuori anche l'altro Buono allora Ho ripulito un attimino la zona E ho trovato anche un potenziamento per una delle armi Nulla di che onestamente Allora c'è sta cassa che ha un aspetto abbastanza birichino Il gioco ha detto che quando uso questo posso anche infondergli il potere Oh Quindi quando la lancio Può bruciare le ragnatele Ah Non lo sapevo Buono a sapersi Buono a sapersi E adesso dovremmo poterci muovere con maggiore tranquillità Sopra questo schifo di liquidume verde radioattivo E mi sa che in qualche modo dovremmo arrivare a quella nave mercantile Probabilmente è la nave mercantile stessa che ha disperso dei materiali radioattivi contaminanti all'interno dell'acqua Ecco perché non possiamo metterci i nostri santi piedini nemmeno noi Ma bando alle ciance Signore scusi è tre ore che l'attacco ma lei non attacca me Ah 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 Oi Buongiorno si è incacchiato per lo scherzone di prima Perché l'ho attaccato tantissimo dalla distanza Stia buono Oi possiamo prendere anche due in un sol colpo Aspetta 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 Guardamelo sentivo Guardamelo sentivo Ah stai buono non sta a urlare Ok Quindi manca il signore volante lì E ah ah sono dietro qua Aspetta io gli faccio lo scherzone Carico per bene il potere Gli lancio il coso No non voglio Ho tirato giù un tizio Ma sono scemo Ma sono scemo nel mio cervello proprio Allora vediamo di far fuori questo qui Intanto Scusi signore porti pazienza Sono un bambino un po' idiota ogni tanto Ok Tirato giù alla grande Inica inica Orco cane non riuscì quasi schiagli l'attacco Buono Buono Ok ci è andato giù senza neanche troppi problemi Oilalà c'è di nuovo il tizio seduto sul trono Signore da quanto tempo che non la vedevo Aspetta che mica mi fido che non ci sia qualcun altro Che non siano magari in due in effetti No stai molto tranquillo Porco cane mi sono cagato in mano C'era un tizio sulla sinistra Ma siete scemi State buoni un secondo Aia Tizia curati Tizia curati Tizia curati Tizia porco cane Ok gli uragani hanno fatto fuori uno dei due tizi Ottimo Manca solo il pancione qua Perfetto No che fa Attacca sia buono Ok schivato Pigliati tutti i miei attaccone Uilalà Oh altare di vulgrim Altare di vulgrim Sei mio Vieni qua Vieni qua Vieni qua Ok A posto Mamma mia così abbiamo finalmente salvato Porco cane Vi giuro vi sta salendo un'ansia questo gioco E il prossimo quindi Boss che dovremo incontrare sarà sicuramente La signorina Lussuria Oh non sapevo che la nostra cara Buona Furia Sapesse anche nuotare Mi sa che sto andando a impelagarmi In una zona facoltativa Salve Oh stavo andando in direzione corretta Non mi ero neanche accorto Salve signore come va tutto bene Vuole attaccarmi Ma guarda un po' non capita mai eh Di solito la gente mi stringe la mano Anzi Ok devo solo aspettare che attacchi Ok E ci muori mano malo Pian pianino sto migliorando un attimino il mio tempismo Ma ancora faccio schifo parecchio Oilala salve signore buongiorno Allora c'è l'evocatore laggiù Che dobbiamo far fuori Aia Alla velocità della luce Aspetti 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 Facciamo fuori prima i signori qua Perché all'evocatore Se no non mi ci avvicino neanche Dovevi levarci dalla ciolla No 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 Aspetta 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 Usa riposo Usa riposo Morici Attimalo Ok ti segno io a evocare sta grandissima ciolla Oh Perfetto Mi hanno danneggiato proprio più del necessario Dannazione C'è un oggetto rossastro strano lassù Vediamo se lo possiamo infuocare in qualche modo In effetti si Oh Possiamo raccogliere l'oggetto caduto Ammasso di spettri Buono E siamo all'interno di un nuovo edificio Aia Sta zona non mi piace per niente Sta zona non mi ispira per nulla Fiducia Oh ma guarda un po' Oh ma guarda un po' Ma guarda guarda un po' Porco cane mi è attaccato da dietro Ui 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 Buon secondo Ok E' schivabile più o meno Il signore fa dei tripli attacchi Che sono difficilini da schivare Lo ammetto No 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 Occhio Ok Se gli schivi il primo è fatta Ma se sbagli a schivarne uno Poi sei praticamente fregato Ok 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 Aspetta da dove Ah da dove Aiuto da dietro Ok E beccalo di nuovo Perfetto Oh Oh porco cane Oh porco cane Petta 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 No no non sbagliarli Non sbagliarli Non sbagliarli Non sbagliarli Curati 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 perfetto Curato giusto in tempo Ok schivato E pigliato Oh mio dio Allora Qui abbiamo una leva Che probabilmente Ci aprirà un passaggio Più veloce Ciao ciccio Cosa vuoi Dopo ti do da mangiare Porta pazienza Che non è giornata Ok E ci ha aperto Ah il passaggio Alla cascata Vabbè E' una scorciatoia Un po' del mega Buono vediamo di uscire Da sto cavolo Di posto Ok E ok Aspetta ritornami In fulmine Che ormai mi ci sono affezionato Mi sa che dobbiamo Trarre un modo Per Quello c'era anche prima Buon salve Perché mi dovete mettere Le cose grandi Oddio cos'è Cos'è sto coso Ma E' un ladro di macchine E' un ladro di macchine Chiaramente Dannazione Buon salve Porti pazienza Ui 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 Aspetta aspetta E non è che posso schivarti Più di tanto Siamo su delle scale Ok C'è andato giù Comunque Buono Vediamo un po' Dove era l'altro tizio Che era da queste parti Salve signore Sì ma se mi dà le spalle Anche lei non è molto furbo Devo attaccare quel coso Laggiù Allora Aspetta che in fuoco di brutto Vai Così ho una piattaforma Per saltare da un punto A quell'altro E che cocchio Dimelo prima giuoco Aspetta Che c'è anche un coso Quassù Avete visto che prima Ci ha droppato cose Perfetto Saranno probabilmente Altre anime Ammasso gli spettri medio Ah benissimo Anzi scusa una cosa Fammeli distruggere Tutti subito Così appena vediamo Vulgrim Ci si fa un minimo Di level apino Veloce veloce Oh senti Vediamo di andarcene Da sto posto Perché abbiamo visto I peggio abomini Dimmi che ci allontaniamo Dimmi che una via d'uscita Ti prego No A quanto pare no Allora facciamoli innanzitutto Ho fatto un po' di danni Dalla distanza Che fa tutto brodo Salve signore Venghi venghi Aspettavo solo lei Oh 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 C'ha anche i minion C'ha anche i minion Non vale Non vale i minion No no che mi butti di sotto Dai che mi buttate di sotto No Ma porca di quell'iperporca Sono finito di nuovo Di sotto adesso Ragazzi Ma avete fatto Incacchiare di brutto Ma porca di quell'iperporca Ma dai Ma non ci credo mai Ma quanto c'è Allora mi tocca rientrare Di nuovo E fare il giro Ok facciamo finta Che tutto ciò Non sia accaduto Ok Ma dimmi te Guarda me lo sentivo Quando ho visto lo strapiombo Allora facciamo fuori Gli ultimi furbacchioni Guarda che mi danno anche le spalle Mi ignorano Santo cielo Eh sì certo Aspettavamo solo te Perfetto E ci muore anche tuo cugino Dove sono finito Ah ci sta arcancello Ok Perfetto Abbiamo Mosso E aperto Un'intera zona Ok Allora abbiamo la solita poltiglia Ma ci mancano gli insettini Dove voglia sono gli insettini Non è che Mi sa che sono dall'altra parte Di questa parete Danazione Allora devo riattivare L'interruttore E correre dentro Molto velocemente Vai furia Veloce 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 Che ci rimaniamo schiacciati in mezzo Però non ho modo di causare Quello lì Allora aspetta un secondo Andiamo a recuperare Un degli insettini Qui piccolo insettino Ciao Vieni su L'ho dovuto lanciare io Qua sopra Ma facciamo finta di nulla Allora aspetta che c'è Un grumo Direttamente Qui Vai Ok Mi domando cos'è che io stia distruggendo E in teoria È solo per accedere alla zona Qua dietro Vediamo un po' Ci sono delle anime Qua dietro Perfetto Stiamo andando sulla parte Superiore della fabbrica Oh Guarda chi c'è Ciao ciccio So che te mi aspettavi Veramente tanto Tanto Vai di sotto E vergognati Non ti bloccare lì Ok Stai scendendo pian pianino A posto Mi dispiace signore Perché ho la faghe impressione Che non avessi dovuto spingerlo sotto Ma utilizzarlo per andare dall'altra parte Aspetta Forse non serve Se lo spingo un pochettino più in là In teoria Dovrei poterci arrivare Comunque con il doppio salto del fuoco Vediamo un po' Vai furia Direi di sì A posto Come l'ho detto per un secondo Mi ero cacato Ammetto Ok Questo ci permette di tornare di qui Ritirare la levetta Ye ye Tanto l'insetto Io comunque l'ho ributtato Su neanche a farlo apposta E adesso posso aprirmi il passaggio Inutilmente complicata Ma vabbè dettagli Olè Vai ciccio Oddio Sto cerco a conoscerti Oh no Ce n'è un altro qua sotto Salve signore Allora Aspetta Vediamo di non farlo volare sotto Perché secondo Ci sono passato attraverso Ma mi prendi in giro Dicevo Secondo me Dobbiamo utilizzarlo per arrivare là Il puretto sa già cosa sta per accadere Vediamo se possiamo cavalcarlo Ok Piano Piano Guarda Giusto Giusto Ok Però mi devi andare un po' più avanti Ciccio eh C'eri quasi quasi giusto Ok Perfetto Vai così Giusto un altro po' Scusi eh Forti pazienza Ok Guarda Sei arrivato sul punto giusto No Ci sono gli schifi Da sudanazione Ok Bando alle ciance Casomai Utilizzerò buona parte Di nostri poteri secondari Ok Buon salve Allora Fatemi fare il punto della situazione Prima di attaccarmi Quello lì semi fantasma È quello che odio di più Quindi subito Subito Che ti pigli tutti i miei uragani Ui lalla Io adesso non devo far altro che schivare E sono a posto Aspetta 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 Diamo una mano Alla natura Tanto che ci siamo Ok Ui 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 Non riesco a vedere niente con gli uragani però Ok Direi che l'hanno smaciullato di brutto Perfetto Ok Quell'altro è già un po' più facile da far fuori Allora Facciamo un kinder soppesa al signore Così lo attiriamo decisamente vicino a noi Oh oh Può farlo anche lui Ok Devoporti Pazienza signore Sto imparando anch'io Non è che conosco tutte le specie soprannaturali Ciccia Non finirmi di sotto Che ci moriamo non male di più Per fortuna che possiamo planare E quindi siamo a posto Avevo ragione Mi sa che finiamo veramente dentro quel boia di mercantile Morici 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 Schifoso Porco cane Che mi fate volare male di sotto Vi trucido il cugino Ok Maledetti lanciaspore a tradimento Aspetta un secondo Dammi il fuoco Dammi il fuoco Dammi il fuoco Che mica mi fido Ah non c'era bisogno Porca di quella spora Guarda questo che mi sta vicino al bordo Perché si richiede scivolare di sotto Pazzo Però richiede di farti male Ok Fatti fuori tutti Mi sa che ci stiamo vicino Oh no Nave? Ah Ce l'ha mandato a Usiel Per davvero Credo ci fosse qualche cattivo all'interno Più che altro mi preoccupa quel signore là davanti Salve Secondo me ci ha notato un attimino Scusi E vediamo se nota anche questo Buono 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 e muorici Buono e muorici Aspetta aspetta Siamo di attaccarlo dai lati Ok Perché se no Qua rischiamo di morire prima Di averlo fatto fuori È morto Non è che vedere niente Sono troppo grande Ok Adesso direi che è molto morto Oh Decisamente mi sono semplificato la vita Ok Mamma mia Ok In teoria se facciamo il giro È praticamente fatta Dobbiamo solo arrivare sulla parte superiore Chi è che ha fatto attraccare una nave Qui Ma vabbè dettaglio A voi green Ciao bello Come stai Buono dai Direi che anche per questo episodio di Darksider 3 è tutto Mamma mia Abbiamo dovuto affrontare i peggio nemici E nel prossimo Presumo Che dovremmo sconfiggere effettivamente La lussuria Che non è facile onestamente Sono un ometto con delle esigenze pure io Ma per questo episodio di tutto Restate un bel mi piace Continuando la serie Candiate Si fai a crescere E noi ci vediamo nel prossimo episodio Ciao ciao